Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 65esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 2 al 10 novembre 2024, ben trovato. Grazie, buongiorno. Spieghiamo cos'è questo storico festival. È il festival più antico in Europa, forse del mondo dicono alcuni, di cinema documentario. 65 anni sono tanti, abbiamo intenzione di festeggiarli adeguatamente, abbiamo fatto la storia del cinema documentario, vogliamo continuare a farla con gli autori e le autrici più importanti del panorama contemporaneo. Come si caratterizza questa edizione? È un'edizione importante sia per la ricorrenza, ma anche per una cosa che vale la pena sottolineare, credo, più della metà dei film in programma, che sono quasi 90, sono diretti da donne. Questo è un dato importante, non è una quota che abbiamo perseguito a tutti i costi, ma ci abbiamo fatto attenzione e alla fine è così. Ci sono registre molto importanti al festival, c'è un filone che attraversa tutta la programmazione dedicata a un collettivo di cineastiche indipendenti che saranno nostri ospiti e insieme a loro attraverseremo un po' la storia del cinema documentario al femminile. Abbiamo poi un film d'apertura importante a cui teniamo particolarmente. Alla compagnia del 2 novembre ci sarà Fiore mio di Paolo Cognetti, è una grandissima anteprima nazionale, l'ospite è lo scrittore per la prima volta dietro la macchina da presa e anche Vasco Brondi, un musicista importante e noto che ha curato le musiche del film. Le opere in programma saranno accompagnate da autori e autrici? Abbiamo tre sezioni competitive, una dedicata ai lungometraggi, una dedicata a opere di durata inferiore all'ora, una sezione nuova che si chiama Discovery e poi il concorso italiano. In tutto queste saranno quasi una quarantina di opere, tutte accompagnate dai loro regissi e dalle regisse che le hanno realizzate. Ci sono tematiche più ricorrenti? Assolutamente, abbiamo delle sezioni che stabilmente costruiscono e contribuiscono a costruire il nostro programma, in particolare quella dedicata all'ambiente, Habitat, che non è solo ambiente ma è anche ovviamente tutto ciò che riguarda l'epoca, il tempo in cui viviamo, ma anche i diritti umani, le crisi umanitarie. Quella è una sezione per noi veramente al cuore del festival. E naturalmente quella musicale, ovvero Let the Music Play, che è dedicata ai documentari musicali dell'anno. L'anno scorso abbiamo avuto grande successo con due anteprime assolute, Kissing Gorbachev sui CCCP e Antipop su Cosmo. Quest'anno ne abbiamo di ugualmente importanti, abbiamo un film strepitoso sui Beatles che si chiama Things We Say Today, su un loro concerto del 65 a New York e la prima mondiale di un film sui Gazznelada, gruppo storico bolognese a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Come si articolerà rispetto ai luoghi e agli orari? Noi cominciamo sabato 2 novembre alla compagnia, ore 17, c'è un film in prima mondiale di Gianfranco Pannone, grande regista italiano, dedicato a Armando Punzo e la compagnia della Fortezza, il carcere di Volterra e quel giorno tutte le proiezioni saranno alla compagnia, questo vale anche per domenica 3. Da lunedì 4 ci alterneremo tra la compagnia e il cinemastro di Piazza Peccaria, col programma che si va ad articolare e intensificare ulteriormente per poi chiudere nuovamente col weekend finale di 9-10 novembre dove saremo alla compagnia, ci sarà Vinicio Capustela, ospite per Natale fuori orario, ci sarà Paolo Ruffini per un bellissimo film che si chiama Vergemolino e la sera Manfredi Lucibello per il complotto di Tirana che andrà a chiudere la serata dopo la cerimonia di premiazione. Com'è stata l'attività di selezione? Molto lunga, noi cominciamo a guardare film a gennaio per un festival che si tiene a novembre quindi sono 7-8 mesi pieni di lavoro, io con il mio comitato di selezione, siamo in 8, abbiamo visto 1500 film per questa edizione, tra quelli ricevuti dal bando del festival e quelli che abbiamo richiesto a nostra volta dai vari festival internazionali. Quindi un lavoro devo dire certosino, accurato perché ci teniamo che la programmazione veramente risponda del meglio del cinema documentario contemporaneo. I riferimenti web per il programma? Si trova tutto all'indirizzo festivaldeipopoli.org, il programma, le singole schede dei film, le novità, anche perché c'è una novità molto importante, possiamo finalmente rivelare il fatto che Ken Lodge è il nuovo presidente onorario del Festival dei Popoli, perché lui 40 anni fa, l'ospite al festival, lo vinse con un film che si chiama Witchside a Rewon, dedicato alle lotte dei minatori in Gran Bretagna nell'84 e per l'occasione insomma volevamo celebrare lui, celebrare il festival che compie 65 anni, gli abbiamo fatto questa proposta di ricoprire la carica di presidente onorario e ha accettato con grande felicità. 65esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 2 al 10 novembre 2024, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Aissandro Stellino, alla prossima! Grazie a voi, spero di vedervi al festival!